Musica Ed eccoci qua ragazzi Bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchikagimer che vi parla E siamo tornati su One Piece Odyssey Siamo finalmente nei pressi di Alubarna Dove dovremmo cercare di impedire la guerra tra l'esercito reale e i ribelli E quindi BB sarà già là perché è stata rapita O comunque presa da quelli della Baroque Works portata al cospetto di Crocodile suppongo Si è già là Quindi qua cosa abbiamo C'è qualcosa qua Uso Dai sostituisciti Ok E vediamo Ah subito così C'è Grazie a tutti! Grazie a tutti! No, Chopper! Ok, quello è andato! Non posso attaccare nessuna altra parte questi... Mancano due! Grazie a tutti! Ok... Nel frattempo, BB viene condotto al palazzo reale dove attende Crocodile! Grazie a tutti! Andiamo... Mr. One, vero? Incredibile che tu l'abbia battuta da sola! Accogliamo tutto quello che c'è da raccogliere qui... Andiamo... Mr. One, che tipo era? Un uomo spada, resistente come l'acciaio... Era uno scontro durissimo... Un uomo spada, quindi lo fai sembrare un mostro! Tagliare l'acciaio... Tagliare l'acciaio... Cioè, dovreste scoprirlo da soli... Ah, va bene! Allora, da che parte? Di qua o di là? Un uomo spada... Un uomo spada... Un uomo spada... Chopper con... Zoro... Zoro... Bazzucca... Ah... Sì... Oh! Ahi io Ok è rimasto solo quello con Nami e Sanji Ok bonus esperienza fatto Vediamo un po' come salgono Chopper Sanji Oh tutti al 22 stanno Ok perfetto Aspetta ma qua ci posso far passare Chopper? Se lui è piccolo Si Ok Ok Allora 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 Procione Ma noi abbiamo un'arena non un procione A punto Allora 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 Quanta patria Oh oh Ma che ha occhi del drago Allora 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 Vai Nami Ok quelli sono andati giù Panda Facciamo questo Arnado del Drago Ed è rimasto solo il Panda qui Ah no c'è anche quell'altro E a metà questo Vai Vai Però è che i Panda sono belli resistenti Proprio cosa mangiare Rufy Ok questo è andato 3.000 mondi Olè 22 Nami Vieni Vieni Scusate! 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 Rufy ha lasciato il gruppo. Zora ha lasciato il gruppo. Perfetto! Scusate! Scusate! è stato fermato, Vivid Rufi, come si è vero? Si non basta Sì Ok, come andare verso la torre dell'orologio allora Sì 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 Allora, aspetta Cura Sanji Sì 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 Uuuh! Uuuh! M...moocha na cosa o suru a ne... Nantokanatta da ro? Hontou ha... Kantanじゃ naかったんでしょ? So ne... Ano toki wa... Koua deki na katta... Sì, ci sono stati di un'errore in un'errore in un'errore. Seppure che ci sono in un'errore, nessuno non lo vuole. Quindi, ci sono tutti i nostri. Non c'è un'errore. Qui c'è un'errore in un'errore? Sì, lo vedo. Grazie a tutti! Andiamo! Affronteremo Crocodile! Andiamo! 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 Bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto, la prossima volta ripartiremo da qui, io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se no l'avete ancora fatto e alla prossima! Ciao belli!